Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi Ancora funzionante che mi sono rotto il cazzo di portare e riportare perché sinceramente sono 4 settimane che c'è questo glitch 4 settimane che ancora non avete imparato a fare questo cazzo di glitch di merda E me so bello e rotti i coglioni, pure te stava risponde, pacciato, pacciato, pacciato Regà quando è pacciato lo scrivo io, mai te rotta la fotela del cazzo con questo pacciato, 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 basta ve lo scrivo quando è pacciato Vediamo, allora innanzitutto per fare il glitch serve un blazeracqua o un veicolo speciale che dobbiamo utilizzare Possiamo utilizzare anche la deluxo però a volte sparisce la deluxo E ogni volta dovremmo ribuggarci, ribuggarci cosa significa ragazzi? Fare tutte le volte questo bug, aprire due volte il telefono per avviare un colpo domus dei E appena ci compare il conteggio in basso a destra dobbiamo correre immediatamente Verso il pallino azzurro o del nostro ceo o del nostro appartamento Dopodiché arriviamo a quella schermata che avete appena visto Premiamo cerchio e corriamo verso un punto o giallo o rosa sulla mappa ragazzi Come vedete il blazer non è scomparso Allora alcune volte può capitare che scompare ma non significa che sia pacciato Basta riavviare l'applicazione o cambiare di sessione e fare il glitch ragazzi Se io tutte le volte che mi succede qualcosa di strano devo stare lì a scoraggiarmi E pensare che una cosa è pacciata non farei lo youtuber Quindi dopodiché andiamo nello status custom, non facciamo nulla Non serve che facciamo qualcosa e poi usciamo Qui vi mostro la data del glitch ragazzi Quindi una volta fatto ciò usciamo da Los Santos Custom e ci dirigiamo verso il nostro ceo Andiamo nel nostro ceo, entriamo nel nostro ceo come il nostro veicolo Una volta entrati nel ceo dobbiamo avere il veicolo speciale, cioè il veicolo che vogliamo duplicare Scusatemi ragazzi E io in questo caso uso una Sultan ma non perché paga di più Ma perché ho solo questa, l'auto che paga di più e la LG Retro Custom Quindi a questo punto facciamo un cambio targa dopo essere andati nel meccanico Facciamo un cambio targa, mi raccomando ragazzi cambio targa e targa personalizzata Per fare questo glitch, altrimenti c'è un altro video dove potete non usare la targa personalizzata Dopodiché scendete dal veicolo come appena fatto, risalite sul veicolo, premete freccia destra E la duplicazione è riuscita ragazzi Come vedete abbiamo il doppione dell'auto A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nel piano dell'ufficio E attendere che l'auto ci spawni in strada Non a tutti l'auto spawna in strada Quindi quando non vi spawna in strada ragazzi Anche qui non significa che è pacciato Vedete qui è proprio scomparsa l'auto Quindi a questo punto che cosa faccio? Vado ad avviare il colpo di Lester Me ne vado sul telefono Prendo il colpo di Lester Cancello il colpo di Lester Faccio cerchio per annullarlo E subito dopo mi troverò l'auto sotto il palazzo dove ho avviato il colpo di Lester L'andiamo a mettere in un garage pieno ragazzi Deve essere pieno il garage Perché altrimenti vi farà la schermata nera e rimarrete lì l'infinito Fino a che non riavviate l'applicazione E sostituite con una LG RH8 Detto questo ragazzi rimarrete ancora buggati come state vedendo Quindi potrete rifare tranquillamente il glitch Vi mostro nuovamente la data Non so che altro aggiungere ragazzi Perché è la bellezza di 4 settimane che c'è questo glitch E sembra che ci sia ancora qualcuno che scende dalle stelle Comunque detto questo Un saluto a tutti e al prossimo video